Presentato nella sede Rai di Napoli il quarto capitolo di Mare Fuori, la fortunata serie televisiva prodotta da Pico Media. Si parte giovedì 1 febbraio, data in cui saranno disponibili su Rai Play i primi sei episodi. L'appuntamento in chiaro invece è su Rai 2, previsto per mercoledì 14 febbraio in prima serata. E da quel momento in avanti, Rai 2 trasmetterà tutti e 12 gli episodi suddivisi in sei settimane di programmazione. Nel corso della conferenza stampa sono state offerte alcune anticipazioni circa la trama della quarta stagione, anche grazie al trailer presentato ufficialmente. Ci sarà il ritorno di tre personaggi molto apprezzati dal pubblico, sia quelli di Ciro, interpretato da Giacomo Giorgio, Pirucchio, interpretato da Nicolo Galasso, e Pino, alias Antonio Refice. Chiaramente la presenza dei sopraccitati attori e rispettivi personaggi sarà attraverso alcuni flashback, dato che quanto accaduto a Ciro, Pirucchio e Pino non può certo far sì che i tre risorgano. Il regista di Marefuori, Ivan Silvestrini, si è già servito ampiamente di questa tecnica narrativa per i capitoli precedenti. Cucciolo invece sarà il fulcro della quarta stagione. Nel finale della terza stagione, infatti, è incentrato sull'omosessualità del protagonista e sulla sua relazione con Milos tutta la trama. Di certo tutto questo verrà ripreso anche nel quarto capitolo, a partire da febbraio 2024. La trama della quarta stagione parte da un momento di crescita, non soltanto nella vita reale, ma anche nella fiction, degli attori e dei protagonisti amati dal pubblico. Oramai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne, il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio, ed è questo quello che fa Marefuori. La libertà non è soltanto fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria, ribellarsi per la propria autodeterminazione. A margine della conferenza stampa abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti che danno consigli per gli ascolti a coloro che dal 14 febbraio li guarderanno da casa. Comprate una poltrona comoda, la serie sarà preparati i panzoletti, non vi arrabbiate troppo con noi, siamo umili servitori. Ehm, niente, ci accettiamo magari dopo che sono scelta del crimine, sei un paio, un paio, un paio sei un paio.